Siamo già andando? Mary-Anne, hai scelto un nome pastafariano? Sì. Cos'è? Gnocchetta alla matriciana. Ok, allora, gnocchetta alla matriciana, io ti pastezzo nel nome del sacro, prodigioso spaghetto volante. Ramen. Ramen. Scegli un numero da 1 a 8? 8. Ottavo condimento? Ottavo condimento. Il migliore? Io preferirei davvero che non faceste agli altri quello che non vorreste che gli altri facessero a voi. Specie, se vi piacciono cose che usano un casino di pelle lubrificante tipo Las Vegas, se l'altra persona ci sta, allora, regola numero 4, dateci dentro, magari fate un filmino, ma per l'amor di Mike, mettete un preservativo, siamo seri, non è altro che un pezzetto di gomma, se non avessi voluto che vi piacessero usarlo, lo avrei creato con le spine, ci siamo simili? Ramen. Ramen. Quando hai scelto un nome pastattaliano, tagliatelle ai porcini, tagliatelle ai porcini, allora io ti pastezzo nel nome del prodigioso spaghetto volante, ramen, un numero da 1 a 7? 4. 4. 4. 4. 4. Quarto condimento. Io preferirei davvero che tu non ti comportassi in modo da offendere te stesso o il tuo partner, consenziente o maggiorenne, e se qualcuno ha qualcosa da ridire, credo che la risposta migliore sia, va a farti fottere. E se vi pare eccessivamente offensiva potete anche togliere il disturbo e andarvele. Ramen. 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 Un saluto di fine anno festoso e birroso a tutti i fedeli e non fedeli, perché a noi non ci interessa che tu creda o no alla chiesa pastafariana, per un anno gioioso e ricco di grandi avvenimenti, quali queste cene, pranzi e festeggiamenti fastafariani che meritano sempre decisamente. Birra buona, mangiare buono, tanta bella gente e più siamo meglio stiamo. Tanti auguri a tutti. 稍ato. Tanti auguri. Così c'è. L'ho successo. Ma tu, non è vero cosa? Sucrs! E tu, non è vero? Sucrs! E su, non è vero! Grazie.